Questa signora ha 83 anni. Affetta da epatite e ipertensione, desiderava un nuovo sorriso. Ma nessuno voleva operarla. Troppi i rischi legati al pericolo di contagio e all'età della paziente. L'equip medica della Clinica Dentale Corbo ha accettato la sfida, eseguendo l'operazione in soli 45 minuti. Alla signora sono stati inseriti 16 impianti nelle due arcate, con un intervento rapido ed efficace. Ora può mangiare quello che vuole ed è finalmente tornata a sorridere. Abbiamo un solo obiettivo, ridarti il sorriso. Contattaci a questi numeri o entra nel nostro sito impiantidentalisicilia.it Scegli la Clinica Dentale Corbo, specialista nella cura dentale.